Musica Buonasera, benvenuti al TG2000 edizione delle 18.30 in apertura la strage di Capodanno in Turchia è giunta in mattinata la rivendicazione dell'Isis che parlando dell'attentatore lo definisce un eroico soldato e poi l'attacco alla Turchia, serva dei crociati in realtà più che di uno scontro di religione l'attentato di Istanbul del 31 di dicembre va sempre più delineandosi come la ritorsione del califato nei confronti delle mosse di Erdogan sulla sua politica adottata in Siria il servizio di Antonio Soviero A Istanbul si celebra il primo funerale di una delle 39 vittime soprattutto stranieri della strage di Capodanno al club Reign si tratta dell'agente di sicurezza Fadi Kakmak riuscito a sopravvivere all'attentato del 10 dicembre scorso allo stadio del Besiktas l'inferno scatta attorno all'1.15 della notte di Capodanno le 23.15 in Italia sulla riva europea del Bosforo il killer con una preparazione militare entra nel locale vestito di scuro e con un Kalashnikov spara fino a 180 colpi uccidendo chiunque incontra non l'ho visto in faccia appena è entrato nel locale ha iniziato a sparare senza fermarsi più pensavo fossero in molti a sparare in un altro video di sorveglianza l'attentatore sembra cambiarsi d'abito e subito dopo riesce a scappare le indagini hanno portato all'arresto di otto presunti complici mentre prosegue in tutta la Turchia la caccia all'uomo oltre ai filmati gli investigatori hanno in mano questa foto poco chiara e un'impronta digitale che li porterà presto, sperano, all'identificazione l'uomo sarebbe originario dell'Asia centrale stanno bene ma molto provati 5 italiani scampati all'attentato rivendicato dopo oltre 30 ore dallo Stato Islamico che definisce il killer un soldato eroico e la Turchia serva dei crociati è la solita propaganda contro l'Occidente quando invece ci troviamo di fronte ad una guerra dei jihadisti sunniti contro il presidente turco Erdogan che dopo averli protetti per anni ha deciso di scaricarli e fare l'accordo con Russia, Iran e il nemico di sempre il presidente siriano Assad e sulle difficili ore che sta attraversando la Turchia Paolo Fucili ha sentito al telefono Monsignor Paolo Bizetti vicario apostolico di Anatolia nelle sue parole una riflessione sulla possibilità e il pericolo alla luce anche dell'attentato che il paese possa imboccare la strada del radicalismo islamico ma anche la constatazione che a finire sotto i colpi dei mitra anche stavolta non c'erano soltanto i cristiani il servizio è chiaro che questi terroristi cercano il momento il luogo e la circostanza perché ci sia il massimo diciamo di risonanza a questi atti qui ormai da un mese all'altro ci sono molti di questi eventi che ovviamente si ripercuotono poi su tutti perché bloccano il turismo creano paura disagio oltre al dolore di se stesso per tutti i morti e le loro famiglie eccetera ma lei crede ad esempio crede che in questo momento ci sarebbe bisogno di una maggiore sicurezza per i cristiani in Turchia quindi più protezione non penso tanto che sia un problema specifico francamente dei cristiani no no questi colpiscono con altri criteri ecco e poi questi sono slogan con cui tentano di acquisire una ideologia religiosa del tutto del tutto fasulla poi perché l'Isis è espressione non dell'Islam ma è espressione soltanto del delirio di questa gente io vedo quotidianamente i primi a essere non solo dispiaciuti ma essere a condannare apertamente tutto questo sono gli stessi musulmani con cui noi viviamo anche gli imam eccetera quindi in Turchia la gente è contro anzi è molto arrabbiata perché tutto questo blocca il turismo ci sono evidenti danni economici per tutti altro scenario difficile quello iracheno l'Isis ha infatti rivendicato nel pomeriggio di oggi un attentato a Baghdad dove un'autobomba ha ucciso almeno 39 persone 57 sono invece i feriti scenario della strage una piazza del popoloso soborgo sciita di Sadr City l'attentato arriva nel giorno in cui nella capitale irachina si trova in visita il presidente francese François Hollande Papa Francesco torna a condannare la violenza sui più piccoli in una lettera inviata ai confratelli vescovi resa nota oggi invita i pastori ad ascoltare il pianto dei tanti bambini nel mondo vittime di violenze e poi le forti parole di Francesco contro la pedofilia la chiesa scrive il Papa piange però non solo per questo ma anche per il dolore dei minori che furono abusati sessualmente dai sacerdoti Cristiana Caricato ha sentito il bisogno di scrivere Papa Francesco un bisogno impellente per mettere in guardia dai nuovi erode che fagocitano l'innocenza dei bambini in una lettera che porta la data del 28 dicembre festa liturgica dei santi innocenti indirizzata ai vescovi del mondo il Papa invita a non farsi rubare la gioia annunciata dagli angeli e ai pastori e a non affezionarsi ad una tristezza dolciastra senza speranza che a volte si impadronisce dei cuori il Natale ricorda Francesco è accompagnato dal pianto la nascita del figlio di Dio è avvolta dal dolore dal grido e dalle lacrime delle madri a cui la tirannia e la sfrenata sede di potere di erode hanno sottratto i figli un gemito scrive il Papa che possiamo ascoltare ancora oggi e che non possiamo ignorare un dolore che dobbiamo contemplare insieme al presepe per non rendere il Natale solo una bella favola ecco allora l'invito a diventare uomini sensibili alle lacrime e alla realtà capaci di proteggere i bambini quelli ridotti in schiavitù costretti a immigrare vittime di banditi mafie mercanti di morte i fiori dei martiri come scrive Vachar Spegui Francesco cita anche qualche dato 75 milioni di piccoli che hanno dovuto interrompere la loro istruzione 150 costretti a lavorare i tanti oggetto di sfruttamento sessuale quelli che muoiono per fame ma accanto alla denuncia dell'indifferenza del pianeta anche il pianto della chiesa per il dolore procurato da alcuni i suoi membri e figli più piccoli i minori abusati sessualmente dai sacerdoti sono la vergogna della chiesa tuona il papa che chiede perdono persone che dovevano prendersi cura dei più piccoli hanno distrutto la loro dignità scrive ma ci sono stati anche peccati di omissione di abuso di potere si è nascosto e negato ciò che era accaduto ancora una volta Francesco consegna la linea della tolleranza zero mentre invita a proteggere i più piccoli perché questi crimini non avvengano mai più Erode si è nascosto anche dentro la chiesa ci spostiamo adesso in Brasile dove almeno 60 persone sono morte in una tragica rivolta nel carcere di Manaus durata 17 ore i disordini sono iniziati ieri quando sei corpi decapitati e ancora non identificati sono stati lanciati all'esterno della struttura all'origine della ribellione nel carcere vi sarebbe una rissa fra due gang rivali già note in Brasile per le spedizioni punitive ordinate all'interno dei penitenziari ed è durante la mattanza all'interno del penitenziario di Manaus che secondo i media brasiliani alcuni detenuti sono riusciti ad evadere dalla struttura la notizia però non è stata confermata dalle autorità locali torniamo adesso in Italia dove la meningite torna a far paura è deceduto al policlinico Umberto I di Roma il ristoratore del frusinate ricoverato in gravi condizioni proprio per una meningite fulminante stabili invece le condizioni della giovane toscana ricoverata nella terapia intensiva di un ospedale di Prato allerta anche in Liguria per un caso sospetto e dalla comunità scientifica arriva un solo e unico appello quello a vaccinarsi Lucia Scione la comunità scientifica non vuole che si parli di allarme meningite neanche dopo la morte del ristoratore di Alatri ricoverato lo scorso 31 dicembre al policlinico Umberto I di Roma in gravi condizioni rara fulminante non contagiosa hanno chiarito i sanitari la forma che lo ha colpito e che ha impedito al cinquantenne di rispondere alle terapie a Prato invece migliorano le condizioni della giovane toscana ricoverata in terapia intensiva all'ospedale Santo Stefano le condizioni sono lievemente migliorate è stata estubata ieri quindi è in respiro spontaneo però la prognosi è ancora riservata e ancora ricoverata in terapia intensiva per i familiari e chi è entrato in contatto con la paziente è scattata immediatamente la profilassi prevista per la meningite da ceppo C la profilassi certo è stata eseguita immediatamente per i contatti stretti quindi familiari i contatti stretti quindi i soggetti che sono che vivono con lei poi certamente anche successivamente anche ieri sono state fatte le indagini si chiama indagine epidemiologica proprio per raggiungere i contatti stretti è importante dire che vanno profilassati con gli antibiotici solo i contatti stretti la giovane a settembre si era vaccinata proprio contro la meningite C notizia confermano i sanitari che non mette in discussione la validità e la necessità dell'unica misura in grado di fermare il contagio e di attenuare gli effetti della malattia appunto la vaccinazione io credo che al di là dell'agitazione che quando le cose diventano evidenti creano in termini di eccesso di richiesta di vaccini di psicosi l'aspetto positivo se vogliamo dire è rilanciare la possibilità di prevenzione attraverso alcune vaccinazioni che limitano possono limitare se eseguite in modo intensivo ed estensivo la diffusione di questa malattia pesante e grave contro la meningite ci si può vaccinare per o meglio per alcuni dei batteri che causano le forme più gravi esiste la possibilità di vaccinarsi per l'emophilus influenzae B che è compreso nell'esavalente proposto ai bambini alla nascita ci si può vaccinare contro il pneumococco che può determinare forme invasive ed essere anche importante per la prevenzione nell'anziano per forme di polmoniti ma anche e soprattutto di meningiti nel giovane e nell'adulto e poi alcuni tipi di vaccini per i principali sottotipi di meningococco ovvero per il meningococco B per il meningococco C che sono i principali in Italia e in Europa ma anche contro il tipo A e il tipo W Y in un vaccino addirittura quadrivalente indicato soprattutto per gli adolescenti e gli adulti il 2017 per la politica italiana si apre con Beppe Grillo il leader dei 5 Stelle che cambia toni più moderazione e oggi poi con la presentazione del nuovo codice etico anche meno giustizialismo una mossa questa secondo alcuni osservatori che serve a mettersi a riparo da eventuali guai giudiziari che potrebbero riguardare il comune di Roma ma per farci un'idea di che cosa sia accadendo nel movimento 5 Stelle e ne abbiamo parlato con il politologo Paolo Pombeni sentiamo il servizio in intervista di Donatello Vaccarelli Voglio lasciarvi con questo messaggio è l'orgoglio di quello che siamo siamo italiani e io lo voglio gridare per la prima volta anche se non sono un patriota Cosa succede al camaleontico grillo che rinfodera il vaffa e rispolvera il tricolore in un messaggio di Capodanno dai toni insolitamente morbidi anche su temi come l'immigrazione sui quali un tempo sparava a zero il comico genovese sembra tracciare una nuova rotta per il movimento 5 Stelle è un momento tipicamente preelettorale in cui il movimento 5 Stelle si aspetta di essere chiamato a una prova nella quale come ha detto Di Maio o si vince o si perisce nel senso che o si conquista una posizione se non completamente vittoriosa almeno insomma largamente di successo oppure comincia inevitabilmente una fase di declino e oggi arriva una svolta epocale un codice etico che sembra mandare in soffitta il giustizialismo duro e puro del movimento per gli amministratori pentastellati un avviso di garanzia non comporta più automaticamente sanzioni più che una scoperta del garantismo è una scoperta del fatto che altrimenti ci si mette nelle mani più o meno di un sistema giudiziario quel che è certo è che le nuove regole assegnano un ruolo ancora più centrale a Grillo garante con grande discrezionalità del codice etico come sempre in tutti i movimenti il fondatore fin tanto che c'è rimane la figura fondamentale di riferimento anche perché è l'unico che è in grado di dire se l'ho detto io tacciano gli altri la realtà è qualcosa di strano e noi politicamente economicamente non si riesce a capire portiamo pagina e torniamo a parlare di immigrazione perché dopo la stretta sugli irregolari annunciata due giorni fa dal Viminale adesso si pensa di modificare anche il reato di clandestinità e rafforzare la collaborazione con la consulta per l'Islam ma malgrado questo il flusso di migranti non si ferma Stefania Squarci in Europa i migranti arrivano in diversi modi il più conosciuto è con i barconi oppure a piedi attraverso i Balcani ma c'è un'altra strada è cominciato anche così il 2017 dei migranti siamo a Ceuta e in clave spagnola al confine con il Marocco le persone che vedete 1100 tutti nordafricani provano ad entrare da qui clandestinamente assaltando le reti alte 6 metri che difendono questa estrema frontiera d'Europa uno spicchio di terra in Marocco ma completamente recintato e presidiato giorno e notte dalla guardia civil per chi appartiene alla Spagna solo due di loro riescono a raggiungere il suolo spagnolo feriti gli altri vengono respinti dal vasto dispiegamento di polizia fin dagli anni 90 in prima linea davanti a queste barriere di protezione ma continueranno a provarci perché sono convinti che la loro unica possibilità sia l'Europa e l'attentato di San Silvestro in Turchia pone di nuovo in primo piano la questione della sicurezza in tutta l'Unione come in Italia che a partire da Capodanno ha deciso di stringere sull'immigrazione irregolare identificazione degli stranieri senza permesso modifica del reato di clandestinità e rimpatri più veloci ma si punta soprattutto a rafforzare la collaborazione con la consulta islamica il ministro dell'interno Miniti chiede agli islamici moderati che vivono in Italia suggerimenti per progetti efficaci di integrazione noi dobbiamo riuscire ad avere un modo per comunicare con il ministero e con lo Stato in modo che si può creare una sorta di muro per isolare i terroristi per poterli denunciare per poter anche creare all'interno della nostra comunità vari organi che possono sensibilizzare l'opinione pubblica islamica contro il fanatismo e contro il terrorismo Comincia il nuovo anno e la priorità per tanti resta sempre la stessa il lavoro ma quali sono i settori che avranno bisogno di persone in questo nuovo anno e quali potrebbero invece essere i lavori che rischiano di scomparire ci aggiorna Giuseppe Caporaso Cercare lavoro è diventato sempre più un vero e proprio lavoro non è un gioco di parole ma nel 2017 bisognerà armarsi ancora una volta di pazienza leggere, studiare e cogliere le opportunità che potranno presentarsi sul mercato insomma scrivere un curriculum con attenzione ma anche scrutare le nuove opportunità di lavoro nel 2017 se consideriamo il settore pubblico con poche opportunità di inserimento lavorativo bisognerà decisamente puntare sul settore privato ma quali saranno i settori produttivi pronti ad inserire nuove figure lavorative per Union Camere le richieste maggiori nel 2017 riguarderanno babysitter e badanti manovratori di treni insegnanti di lingua italiana per stranieri ma anche tecnici di apparecchiature ottiche tecnici dei servizi culturali e della salute in pratica infermieri e fisioterapisti oltre ai soliti ingegneri sempre tra più richiesti nel mondo del lavoro secondo l'agenzia per il lavoro invece tra gennaio e marzo 2017 il numero dei dipendenti continuerà a calare in sei settori industriali su dieci tra i comparti in crescita il settore alberghiero e la ristorazione agricoltura commercio all'ingrosso e al dettaglio per le dimensioni aziendali quelle con più di 250 lavoratori appaiono le più ottimistiche e sarebbero pronte ad assumere in questo contesto arrivano anche le previsioni internazionali del prestigioso giornale Financial Times entro 10 al massimo 20 anni scompariranno secondo le analisi del giornale 5 settori economici schiantati dalle nuove tecnologie dovrebbero così sparire agenzie di viaggio produttori di componenti industriali che in Italia hanno un ruolo centrale per la nostra economia officine di automobili venditori di polize RC e consulenti finanziari la solidarietà non ha confini e può arrivare davvero dai luoghi più inattesi ne sono un esempio i 238 euro raccolti dagli abitanti di uno sperduto villaggio del Congo per i terremotati del centro Italia una bella storia che ci racconta Silvio Vitelli 30 villaggi e 15.000 abitanti vicino alla foresta senza acqua né elettricità Kingway distretto nella Repubblica del Congo dove la povertà pur essendo di proporzioni gigantesche non ha impedito di effettuare una raccolta fondi in favore udite udite dell'Italia questo è Donghislan conosce il nostro paese per averci studiato racconta il quotidiano La Stampa colpito dalle immagini del terremoto del centro Italia decide di mostrarle i suoi parrocchiani sindaco e capovillaggio avviano la raccolta fondi i soldi che ognuno può permettersi di donare sono davvero pochissimi così l'iniziativa viene allargata anche ai villaggi limitrofi e agli ospedali come si evince da questo resoconto cartaceo l'associazione fondata da Donghislan si chiama Amici del Congo i soldi sono stati consegnati a questa ragazza Jenny volontaria Umbra 238 euro e 43 centesimi poco certo di fronte alla tragedia del sisma tanto invece lo sforzo profuso per raggiungere l'obiettivo dire grazie a chi da tempo dà una mano al Congo e che ora ha bisogno di un sostegno anche solo simbolico vincenzo corrado è il nuovo direttore del SIR il servizio di informazione religiosa della CEI corrado subentra Domenico delle Foglie originario di Maglie in provincia di Lecce il nuovo direttore negli ultimi anni ha curato per il SIR i rapporti con i settimanali cattolici al nuovo direttore i migliori e più fervidi auguri da parte di tutta TV 2000 un emporio del riuso ad Orvieto che raccoglie centinaia di adesioni il meccanismo è tutto impernato sul baratto come ci racconta nel post di questa sera Sergio Canelles io vi ringrazio dell'attenzione e vi saluto l'appuntamento col TG2000 torna come sempre alle 20 e 30 grazie dell'attenzione